Allora, intanto grazie Gabriele, grazie H-Farm, sono veramente molto orgogliosa di essere qui oggi e come Fedrigoni siamo felicissimi di far parte di questo progetto insieme a tanti brand che tra l'altro ho conosciuto oggi, Made in Italy, e quindi è un grande orgoglio, devo dire, tra l'altro per una che ha studiato marketing, Kotler, effettivamente rimane un mito. La storia che raccontiamo in questo libro è bellissima, parte da una famiglia, Fedrigoni, appunto, che nel 1888 fonda la prima cartiera a Verona per creare carte speciali. E in 130 anni di storia della famiglia si affermano, crescono attraverso acquisizioni, il noto brand Fabriano nel 2002 entra a far parte del gruppo, l'azienda inizia a diversificarsi, non fa più solo carte speciali per il mondo del packaging, dell'editoria, dell'arte, della grafica, inizia a fare anche etichette, premium per i vini, gli champagne, un elemento che contraddistingue questo primo capitolo, diciamo molto lungo, di storia di Fedrigoni, è questo rapporto privilegiato che l'azienda crea con non solo i clienti diretti, quindi gli stampatori, gli scatolifici, i converter, ma anche con i brand, i designer con cui lavoriamo ogni giorno. Poi parte un nuovo capitolo, nel 2018 Fedrigoni viene acquisita da un fondo di private equity, la famiglia rimane nel gruppo con una quota di minoranza e a quel punto inizia proprio un nuovo capitolo che ha l'obiettivo di consolidare quello che la famiglia ha fatto fino a questo momento e di accelerare questo percorso veramente straordinario. E quindi l'obiettivo diventa diventare un attore globale nel mondo delle carte speciali con un particolare focus sull'axary packaging, ma anche dei materiali autoadesivi. Quindi l'azienda inizia a diversificarsi, inizia a espandersi anche a livello globale, Stati Uniti, America Latina, Asia, e pensate che in tre anni, tra l'altro è storia recentissima, l'azienda innanzitutto rinnova gran parte del suo leadership team, io stessa entro nel 2020, poche settimane prima del covid, fortunissimo, e poi acquista sei aziende nel giro di pochissimi anni, immaginatevi la complessità di gestire un percorso di accelerazione così, apre uffici, sedi, stabilimenti in tutto il mondo, e le sfide sono state, devo dire, parecchie. Nel libro ne raccontiamo in particolare quattro, la prima è stata quella di creare un'immagine globale, perché un'azienda che cresce così velocemente per acquisizioni non ha un'identità unica, ha tanti brand nel mondo, e Fedrigoni sì, lo conoscevano, ma per un pezzo. E quindi abbiamo lavorato, tra l'altro quest'anno abbiamo lanciato la nuova immagine globale con una nuova agenzia che è Pentagram per costruire la nostra nuova immagine. Il nostro motto è Elevating Creativity, che significa che vogliamo essere al fianco dei brand, quindi dalla moda alla cosmetica, ai vini, ai mobili, nel trasformare le loro intuizioni in creazioni complete, fino al packaging e alla comunicazione. La seconda sfida, tra l'altro non lontana dall'esperienza che ha appena raccontato Safilo, è quella della trasformazione digitale, che devo dire anche nel nostro caso non è stata proprio banale, e siamo ancora un bel cantiere aperto. Nel giro di 18 mesi, praticamente, abbiamo innanzitutto, anche noi mettendo al centro cliente, ci siamo chiesti come rendere più semplice e facile, immediata, veloce la relazione col cliente in tutto il mondo, e quindi abbiamo... E poi l'altro elemento era la nostra presenza digitale. E quindi abbiamo iniziato, abbiamo lanciato sei nuovi siti, quest'anno, web, stiamo lavorando a un portale per i clienti, per rendere l'esperienza molto più immediata, proprio attraverso questo portale digitale, che segue il cliente da quando entra con un ordine, a tutte le fasi, poi, dal tracking della merce, che oggi è un tema abbastanza complesso, alla gestione dei claim, a tutto anche l'ascolto dei feedback continui per migliorare. Abbiamo iniziato a fare eventi digitali, questo è stato, devo dire, una sfida non banale, perché la carta la devi toccare, se no, come fai a capirla? Quindi lì abbiamo studiato formati ibridi, per raccontarci, ma aprirci a audience più ampie. La terza sfida appassionante, devo dire, forse è una delle più appassionanti, è quella verso l'interno, l'identità, la nostra identità. Abbiamo 4.000 persone in tutto il mondo, che arrivano da tante società acquisite, e quindi è difficile sentirsi parte di un'unica, di una one company, e quindi qua, le tecnologie digitali ci hanno aiutato tantissimo. Ad esempio, per farmi un esempio concreto, abbiamo adottato, implementato Workplace, che è una piattaforma di social collaboration, e in questo modo siamo passati da le persone che avevano le baccheche aziendali per poter essere aggiornati su quello che succedeva in azienda, ad avere una piattaforma dove le persone negli stabilimenti, nelle sedi, possono essere aggiornate in tempo reale, connettersi, collaborare, conoscere i traguardi che l'azienda raggiunge nei vari paesi. E quindi è stata una trasformazione che è ancora in corso, veramente importante. E poi l'ultimo delle sfide che raccontiamo è quello della sostenibilità, che è un filone in cui l'azienda crede tantissimo, e lì siamo partiti, diciamo, la nostra è un'azienda che è stata sostenibile negli anni, perché il mondo della carta è stato uno dei mondi diciamo molto sotto i riflettori per il tema della sostenibilità negli anni, pensate ai temi della deforestazione, eccetera. Nel 2020 abbiamo deciso ok, adesso dobbiamo accelerare, non basta più quello che stiamo facendo. E quindi abbiamo prima analizzato quelle che erano le nostre aree rilevanti, materiali, diciamo, e da lì siamo andati a lavorare con una roadmap per i prossimi dieci anni, fino al 2030, dove tutto il leadership team si è impegnato a, diciamo, farlo accadere, che tocca tutti i temi più svariati, dall'abbattimento delle emissioni, che per noi è un tema rilevantissimo, perché purtroppo siamo un'azienda molto energivora, azzeramento dei rifiuti, consumo di acqua responsabile, selezionare i fornitori che lavorano con noi anche sulla base di questi criteri di sostenibilità e poi ci siamo impegnati anche per i nostri clienti a lavorare al loro fianco raddoppiando i volumi di prodotti con caratteristiche avanzate di sostenibilità. Pensate al fenomeno del plastic to paper. Noi abbiamo un ruolo al fianco dei brand per accompagnarli in questa trasformazione. e poi c'è tutto il tema bellissimo sociale che parte dall'interno quindi banalmente il 70% delle nostre persone sono operai negli stabilimenti e quindi abbiamo una grandissima responsabilità verso queste persone e quindi ci siamo impegnati a ridurre del 67% gli infortuni sul lavoro banalmente. stiamo lavorando per creare un ambiente sempre più inclusivo sempre più orientato al tema della diversità dell'equità e poi verso il territorio stiamo facendo tantissime iniziative di restituzione quindi stiamo creando dei boschi vicino ai nostri stabilimenti stiamo facendo partnership con associazioni per entrare nelle scuole e fare education e quindi devo dire che diciamo le sfide sono tantissime è bello essere in un'azienda come Fedrigoni in questa fase storica così intensa diciamo quindi oggi Fedrigoni è un'azienda che fa un miliardo e tre di fatturato e siamo presenti in oltre 130 paesi tra l'altro il 70% dei nostri prodotti sono venduti all'estero e in tutto il mondo dalla Cina al Brasile agli Stati Uniti e le nostre persone diciamo sono un po' il cuore come dicevi anche tu di tutto questo percorso di trasformazione così importante vi lascerei con un video che racconta un po' chi siamo oggi ma anche la nostra promessa non solo alle comunità con cui collaboriamo in cui operiamo ma anche per i giovani con cui abbiamo iniziato proprio recentemente c'è qua una collega del team HR qua con noi a lavorare tantissimo ci sentiamo diciamo di avere questa responsabilità verso le nuove generazioni ed è stato uno dei motivi per cui abbiamo partecipato molto volentieri a questa iniziativa del nuovo libro di Kotler e ci auguriamo che questa storia veramente possa essere di ispirazione per i giovani perché è bello vedere un'azienda made in Italy che cresce nonostante tutte le discontinuità verso un cammino molto ambizioso molto inclusivo grazie a tutti allora facciamo partire il video grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie.